È possibile impedire ai bambini di sviluppare un'allergia alle orachidi. Circa il 3% dei bambini nei paesi sviluppati sono allergici alle orachidi. E il tasso di allergia negli Stati Uniti è triplicato in meno di 20 anni, secondo i Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Sebbene le allergie alle uova e al latte di mucca siano in realtà più comuni, le allergie alle orachidi hanno maggiori probabilità di essere pericolose per la vita e generalmente durano una vita. Per anni, l'americana Academy of Pediatrics, AAP, ha consigliato alle donne incinte di smettere di mangiare noccioline e ha detto ai genitori di non dare da mangiare i prodotti a base di orachidi quando iniziano a mangiare cibi solidi. Ma tutto ciò è cambiato, grazie a una serie di studi recenti che hanno scoperto che le allergie alle orachidi erano fino a 7 volte meno prevalenti nei bambini che mangiavano noccioline fin dalla tenera età. Uno studio ha scoperto che i bambini che sono stati introdotti alle noccioline nella prima infanzia hanno avuto un rischio inferiore dell'80% di sviluppare un'allergia a loro rispetto ai bambini che non avevano mai mangiato prodotti a base di orachidi. Questo è pazzesco. L'API ora dice alle donne in gravidanza di non evitare specificamente alcun tipo di cibo. Il consiglio per l'introduzione sicura di noccioline ai bambini appare negli annali di allergia, asma e immunologia, l'allarmante aumento delle allergie alle orachidi negli ultimi anni ha spinto scuole, compagnie aeree e aziende di trasformazione alimentare a vietare le orachidi o qualsiasi possibile collegamento ad esse. I recenti studi supportano l'ipotesi che l'aumento delle allergie e delle malattie autoimmuni sia legato all'odierno ambiente ultra sterile, reso possibile dal sapone antibatterico e dai disinfettanti.